Sì, sono riuscito veramente a realizzare un piccolo sogno grazie veramente a tutto il team, a tutta la squadra e vincere qui in Belgio con questa squadra è stato sempre uno dei miei sogni, ci siamo riusciti, veramente è stata una gara fantastica, è andata non proprio come mi aspettavo perché di solito questa gara si arrivava con un gruppetto ristretto, quest'anno siamo arrivati, adesso non so di preciso in quanti ma secondo me è una trenta quarantina di corridori, abbiamo fatto la nostra volata e ovviamente siamo riusciti a vincere, ovviamente devo ringraziare tutta la squadra per il lavoro che ha fatto. Nell'ultimo chilometro siamo riusciti a prenderlo davanti grazie a Casper, sulla prima curva a destra, poi è partito Florian, pensavo fosse un po' lungo ma era consapevole di sé, aveva le gambe per farlo, è riuscito a rimanere davanti fino ai 200 metri d'arrivo, fino a quando sono partito e ho dato il massimo, sapevo di avere le gambe e finalmente sono riuscito a vincere. E' un grande punto sul quale lavorare, incominciare a pensare che riesco a essere qui, a giocarmi le mie carte e chissà mai che in futuro riuscirò a vincere qualche altra classica. Certo, sì, 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 sono molto convinto che questo è il miglior team per me, mi trovo veramente bene, è uno dei migliori per queste gare, certamente darò il massimo anche nelle prossime classiche, grazie a voi.